weh che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfide della settimana numero 3 oramai dovresti averle già completate tutti vi ricordo che c'è questa settimana la stellina segreta quindi un livello extra del pass battaglia la trovate nella pila di macchine all'inizio di crocevia del charpame proprio sulla sinistra dell'ingresso principale oltre ragazzi ovviamente alle sfide arrivano un sacco di novità incredibili e alla base anzi alla cima di tutto il nuovo modo di decriptare le skin da parte dei leakers cosa che non era più possibile fare per un po di pace infatti non era facile sapere quali fossero i cosmetici che sarebbero arrivati ma è stato bucato il sistema e quindi ragazzi nel video di oggi vi farò vedere ben 5 se riesco skin decriptate e secondo me sono tutte molto belle parleremo anche però di una nuova arena che sta per arrivare o meglio di una nuova modalità nell'arena che tutti conosciamo e poi ragazzi esclusive per le console quindi cosa vuol dire che ci sono delle cose che potrete ottenere solo se siete giocatori da parte di console però prima voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore raga per supportarmi nello shop mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina o c'ho la domanda bella oggi ragazzi c'ho la domanda bella da farvi e ragazzi i vostri commenti qua sotto non dimenticate di lasciarmelo che ci tengo tantissimo a leggerli qual è il tuo ballo preferito raga ne abbiamo centinaia di balli su fortnite ma se doveste sceglierne uno quello che preferite in assoluto qual è il mio ragazzi elet banging da 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 mi piace troppo nonostante ci siano tantissimi balli epici meravigliosi o non comuni a melet banging non riesco a trovarne momentaneamente uno più bello di questo ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere una delle prime skin decriptate la skin doggo in realtà l'abbiamo già vista o meglio tutti quelli che hanno completato le sfide della settimana numero 3 hanno ottenuto lo la schermata di caricamento che mostra appunto questa skin doggo questa skin fa parte in realtà di un set sappiamo che sarà epica e questo è il suo backpack la ciotolazza del cane vagamente sporca di croccantini ma non è finita ragazzi perché oltre alla skin e al backpack abbiamo il piccone che sapete io c'ho un debole per i picconi a forma di oggetti veri piccone non comune è il ciotoi che dovrebbe essere un osso d'oro e attenzione attenzione arriverà anche la skin la copertura per armi e veicoli del set doggo quindi ragazzi un'occasione per completare un set al cento per cento curiosamente non si sa nulla del deltaplano quindi di solito le skin epiche viaggiano con i deltaplani ragazzi non mi sembra di ricordare adesso su due piedi qualche skin epica che nel set non abbia il deltaplano staremo a vedere non appena ne sapremo di più probabilmente non è ancora stato scoperto ma andiamo avanti ed ecco qua un altro bellissimo pack di skin si chiama bone bros se non ricordo male finalmente dopo una season che ad approdo avventurato è stato inserito il ristorante ne arriva la mascotte ufficialmente in game come vedete è una skin che però varrà per quattro non so la rarità ragazzi sinceramente non non ho idea l'ultima skin che ha avuto quattro stili che è la skin supersonico era leggendaria però ragazzi supersonico era proprio da gg questa skin si divide come vedete in quattro diversi personaggi accompagnati dal piccone che è il stupid hub dovrebbe essere tipo il mestolo per raccogliere la zuppa e anche dal backpack che invece è un baobasket ecco con questo backpack mi viene in mente ragazzi che la skin potrebbe avere una rarità epica e non leggendaria come quella del supersonico ma potrebbe solo essere questa invece una mia supposizione quindi andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di una cosa molto molto interessante mi fai vedere i codici sì sì ragazzi vi faccio vedere i codici perché queste righe di codice direttamente dalle sorgenti di fortnite sono interessantissime guardiamo direttamente dalla seconda riga display name blue fusion il nome short description con trail è una scia e ragazzi l'ultima riga quella che ci interessa cosmetic source platform ps4 ragazzi in arrivo una scia molto probabilmente esclusiva solo per i giocatori di ps4 ho anche l'immagine ragazzi eccola qua la scia blu fusion adesso io non so se sia come è già successo nella season 4 o 5 che c'era la scia quella per i possessori del ps4 plus che dove ogni arto del personaggio c'era il colore di uno dei tasti del controller questa comunque ragazzi è davvero molto molto probabile che sia esclusiva solamente per i giocatori di ps4 quindi tanta tanta roba e ecco qua invece un'altra notizia molto importante per tenervi sempre aggiornati il twitter sì buonanotte il tweet che è arrivato su twitter da parte di fortnite che ci annunciano che oggi alle 8 am european time quindi tra poco in poche parole arriverà una piccola un piccolo update perché hanno dei problemi con i replay del battle royale e altri problemi per quello che riguarda salva il mondo non sarà niente di grave non ci sarà neanche bisogno di un downtime dei server quindi probabilmente basterà solo un riavvio del game per scaricare questo aggiornamento che sicuramente sistemerà tutti i problemi che avrete magari riscontrato ma andiamo avanti e questa invece l'avete già vista ieri nel video ragazzi anzi mi avete anche un pochettino aiutato a capirne un po di più molti hanno detto è stracopiata da apex legend io pensavo fosse una mitraglietta a distanza ravvicinata in realtà è molto più simile ad un uzi e alcuni di voi mi hanno detto che è una mitraglia che funziona invece a media lunga distanza perché vi faccio rivedere questa immagine perché ragazzi l'immagine che sto per mostrarvi adesso è davvero incredibile ed eccola qua ragazzi abbiamo un'esclusivissima immagine presa non si sa da dove perché non so neanche io davvero ragazzi come sia possibile un'immagine del genere ma vediamo in game la nuova skin wonder quella dello starter pack impugnare la nuova arma voi mi avete detto che si chiama vector io ragazzi sinceramente non l'ho mai vista e non gioco ad apex e neanche forse di rainbow six però forse mi avete detto comunque non ho mai giocato neanche a rainbow six e non la conosco molto curiosa si vede tranquillamente che la impugna con una mano poi però probabilmente funzionerà a due per sparare una curiosità che è sempre una buona cosa da vedere ma ecco qua invece probabilmente l'ultimo argomento di questo video come sempre c'è sempre troppo poco spazio queste ragazzi sono altre parti del codice sorgente relative alla nuova arena da non si sa fra quanto ragazzi ma presto arriverà la possibilità di giocare in arena in duo e cioè in duo sappiamo già in trio volevo dire oppure in squad ragazzi ci sono due righe se andate a vedere la terza e la quarta riga c'è proprio scritto trios e squads quindi aspettiamoci qualche altro evento da parte di epic games forse anche finita l'arena quella che conosciamo in singolo è in duo che darà più spazio e più divertimento a tutti i giocatori che vogliono entrare nel competitivo beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao iscrivetevi al canale